Il nuovo eletto presidente della regione Massimiliano Federiga si prende una pausa dopo il trionfo elettorale, prima della resa dei conti con gli alleati di centrodestra. Fratelli d'Italia rivendicherà l'ottimo risultato elettorale, così come i consiglieri della Lega, primo partito e della stessa lista del presidente. Numeri e curiosità dai risultati dei voti di lista alle regionali. Francesco Martinez fa il pieno di voti ed è il mister preferenze 2023. Resta fuori il presidente del consiglio uscente Mauro Piero Zanin. Anche al comune di Udine il più votato è un candidato dei DEM, Alessandro Venanzi. L'atmosfera in vista del ballottaggio a Fontanini, Detoni e Giarro Vente, a surriscaldare gli animi un'intervista rilasciata dal presidente di Italia Viva Ettore Rosato all'identità di Tommaso Cerno. La reazione del PD, che si fa sentire con Salvatore Spitaleri, con le sue lodi a Federiga, Rosato turba il percorso del centro-sinistra alle comunali. La ribolla del Friuli Venezia Giulia, ferma o spumantizzata, è il vino che in Italia è cresciuto maggiormente nei consumi. L'aumento infatti è di oltre il 12% a livello nazionale, superando quello di altri autotoni come Müller Turgau dell'Alto Adige, più 10%, è il Vermentino di Sardegna, Toscana e Liguria, poco sotto il 10%. Da Vinitaly, curiosità dal mondo dei vini, con l'inviato Davide Zanirato. L'appuntamento con il 24 su TV 12, il giorno dopo le elezioni, cosa succede? Tra un po' ne parleremo con Tommaso Cerno, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Con Tommaso abbiamo chiuso la campagna elettorale, apriamo la fase dei commenti post-voto e di fatto anche la campagna elettorale per il ballottaggio. Ma ne parleremo tra pochissimo. Tommaso, perché devo dare purtroppo due notizie di cronaca. Una che riguarda le ricerche della donna che era scomparsa ieri, non dava più notizia di seda ieri mattina da Imponzo di Tormezzo. Purtroppo poco fa le ricerche hanno dato questo esito. È stato rintracciato il corpo della donna scomparsa e sono in corso le operazioni per il recupero. Dunque è stata purtroppo, come diciamo, rintracciata morta ed era da ieri scomparsa da Imponzo di Tormezzo. Erano scattati subito i soccorsi. C'è poi un'altra notizia che riguarda invece un incidente sull'autostrada A4. Eccolo qui, sulla Venezia-Trieste. Chiusura a tratto Portogruaro-Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Ci sono code. Possiamo andare a vedere anche la mappa interattiva di Infoviaggiando. Come potete vedere la striscia rossa è abbastanza lunga e dunque per chi dovesse mettersi in viaggio è giusto tenere conto di queste indicazioni. Vi aggiungeremo anche più tardi sulla situazione in autostrada. E adesso andiamo ad iniziare il nostro telegiornale che è un po' un telegiornale ma un po' anche ancora uno speciale Elezioni insieme a Tommaso Cerno, insieme anche ad Angela Caino che è collegata da Udine, dal palazzo davanti al palazzo del comune di Udine e palazzo d'Aronco che non ha ancora un proprietario e tra un po' andremo da lei. Allora Tommaso, un po' di riposo come ha detto ieri il presidente Federica mi prenderò un po' di riposo prima poi di affrontare i temi caldi. E tra i temi caldi sicuramente c'è quello degli equilibri che sono cambiati inevitabilmente ma c'era da aspettarselo dopo il grande risultato di Fratelli d'Italia alle politiche e il grande risultato che ha ottenuto anche in regioni, in queste regionali. Io vorrei farti ascoltare un attimo, 30 secondi di dichiarazione di Walter Rizzetto proprio su questo tema. Sentiamo Rizzetto. Se avessi dovuto basarmi su quello che è subentrato in Fratelli d'Italia negli ultimi tre anni è chiaro che andavo ogni giorno dal presidente Federica a dire guarda che, sarebbe stato ingiusto ed inelegante. Questa sera finiamo di vedere tutti i dati, le preferenze. Da domani ci sederemo al tavolo con il presidente Federica a cui chiaramente vanno i nostri complimenti perché è stato un grande catalizzatore di voti questo è evidente e questa non è una cosa secondaria secondo me per capire quello che legittimamente aspetta la Fratelli d'Italia. Prima, Emitazzo, si guardavamo un po' dal lato al basso adesso si guardiamo alla domanda di Vento. Allora, questo è quello che ha detto Rizzetto Tommaso diceva ieri anche Alberto Terasso ha fatto alcune domande ai vari ospiti dicendo vince il centrodestra ma all'interno del centrodestra chi vince e chi perde? Ma sono successe due cose non troppo prevedibili la prima un ritorno della Lega di Salvini che è vero che è anche la Lega di Federica ma tutti sapevano che tra la Lega e la lista Federica c'era una campagna elettorale non di solidarietà ma di tentativo di prevalere e questa cosa ha fatto bene al popolo leghista perché nel tentativo di prevalere l'uno sull'altro sono andati bene tutti e due come il risultato che la Lega cioè il partito originario del governatore Federica è andato meglio della sua lista di poco meglio perché comunque la lista di Federica ha fatto un risultato enorme per essere una lista penanata ma questo tema porta il primo dato non atteso cioè questa regione ha di nuovo una maggioranza tra i no-leghista fino al giorno prima delle elezioni la tendenza era immaginare che il Federica 1 derivasse dalla Lega come primo partito e il Federica 2 da un altro schema e invece non è così la Lega è ancora il primo partito e la lista di Federica contiene in buona parte diciamo uomini del Presidente ma anche leghisti quindi in qualche modo questo equilibrio non è stato rovesciato avrebbe fatto secondo te più comodo a Federica un equilibrio diverso perché qui c'è stato un equilibrio fra le tre liste davvero molto molto sottile per cui si può dire che ha vinto la Lega ma come dicevi anche Fratelli d'Italia è lì è la stessa lista del Presidente ha ottenuto, praticamente le percentuali sono molto vicine ma no, diciamo ha avuto difficoltà a formare la Giunta? no, ma Federica ha preso il 64% ma deve accontentare tutti ma non c'è bisogno di accontentare cioè Federica ha vinto in una maniera tale che questa Giunta si formerà avrà le solite dinamiche politiche la litigiosità il problema è dove vuole andare Federica cioè noi abbiamo una maggioranza che ha un partito in più diciamo perché Fratelli d'Italia l'altra volta non c'era che non ha avuto però il risultato che ha a livello nazionale c'è stato un vuoto di Meloni cioè il messaggio che arriva da questo dato diminuito comunque è alto perché siamo al 17% ma lontano da quello dei sondaggi politici nazionali cosa ci dice? che Giorgia Meloni oltre che essere famosa eccetera rappresenta evidentemente un'Italia più larga di quella che rappresenta il suo partito senza di lei quindi il messaggio che arriva è che questo partito deve rappresentare un'Italia più larga quindi dovrà mutarsi un po' se vuole mantenere quei sondaggi ma io credo che questo schema con la Lega che rimane prima per l'orgoglio anche di essere la Lega di Federica perché poi Federica è della Lega assieme a Fratelli d'Italia che ha bisogno di un allargamento lo dicono i dati e ha una lista che è andata bene ma non domina è lo schema migliore su cui Federica potrà costruire una giunta equilibrata allora andiamo da Angela Caino che si trova come dicevamo a Dudine in esterna per raccontarci anche altre cose perché ci sono Angela delle curiosità che possiamo tirar fuori e tra un po' con un tuo servizio le faremo vedere ai nostri telespettatori sui voti di preferenza e anche su altro buonasera Angela buonasera Francesco a te e a tutti i nostri telespettatori siamo davanti al Comune perché qui la partita è ancora aperta si andrà al ballottaggio come sappiamo mentre chiedo gentilmente alla regia di togliermi il ritorno in cuffia la partita è ancora aperta si andrà al ballottaggio il 9 e il 10 aprile tra il sindaco uscente Pietro Fontanini e lo sfidante Alberto Felice Detoni qui non c'è stata la vittoria netta che c'è stata in regione per quanto riguarda appunto il centro-destra i giochi sono ancora aperti vedremo quello che accadrà e tornando al discorso regionale se da un certo punto di vista la vittoria del centro-destra era attesa il risultato l'analisi del voto ha dato anche alcuni risultati un po' inattesi alcune curiosità per quanto riguarda i voti le preferenze alcuni consiglieri che non sono stati rieletti allora come dicevi tu prima andiamo a sentire proprio il servizio che abbiamo realizzato che ci dà qualche curiosità qualche ulteriore spunto di analisi dei risultati del voto di ieri dai consiglieri super votati agli illustri esclusi per una manciata di consensi passando per vittorie con percentuali bulgare in alcuni comuni l'analisi dei numeri del voto riserva curiosità e sorprese con 3410 preferenze Francesco Martinez del Partito Democratico è risultato il candidato consigliere più votato di questa tornata elettorale l'ex sindaco di Palmanova riesce nell'impresa a dibattere i due consiglieri uscenti della maggioranza Stefano Mazzolini e Mauro Di Bert che avevano primeggiato quanto a consensi personali nel 2018 come candidati di Lega e Progetto FVG e che questa volta entrambi con la lista Fedriga hanno ottenuto rispettivamente 3319 e 3089 voti appena 19 preferenze sono costate invece il posto in consiglio regionale al presidente uscente Piero Mauro Zanin per Forza Italia un solo seggio nella circoscrizione di Udine e il candidato più votato è risultato Roberto Novelli 1675 voti per l'ex onorevole Cividalese a fronte dei 1656 di Zanin sono invece poco meno di 80 i voti che sono mancati alla lista liberi elettori per superare la soglia di sbarramento del 4% e entrare così in consiglio regionale la lista che non era presente nella circoscrizione di Tolmezzo si è fermata al 3,98% nonostante la candidata Giorgia Tripoli abbia raggiunto il 4,66% dei consensi tra i candidati presidente raggiunge il quorum e ottiene un seggio invece open sinistra FVG con Furionsel per lui seconda legislatura in consiglio regionale dopo i due mandati da sindaco e a proposito di ex primi cittadini entrano nell'aula di Palazzo Oberdan a suon di voti anche Mario Anzil Stefano Balloc Igor Treleani e Marcus Maormail volti nuovi di Fratelli d'Italia ma anche Moreno Lirutti per la rista Fedriga Manuela Celotti e Massimo Mentil per il PD chiudiamo con qualche numero d'effetto l'89,68% di consensi ottenuto da Fedriga a Sappada e il 42% raggiunto a Palmanova dal Partito Democratico Proprio due consiglieri due esponenti del Partito Democratico sono risultati più votati in questa tornata elettorale sia alle regionali che alle comunali abbiamo sentito nel servizio Francesco Martinez a Palmanova e Alessandro Venanzi in Comune Audine in assoluto il consigliere il candidato consigliere più votato allora andiamo a sentire le interviste che abbiamo realizzato Francesco Martinez che effetto le fa essere il candidato consigliere regionale con più voti in assoluto ottenuti? ma direi grande soddisfazione un ringraziamento a tutti gli elettori che mi hanno dato questo consenso dico forse sto raccogliendo un po' i frutti di un lavoro fatto sul territorio da volte 30 anni io sono sui banchi del consiglio del 1990 quindi tra Trevignano Palmanova Consiglio Provinciale quindi probabilmente la gente ha capito e ha detto diamogli fiducia anche per la regione 1073 preferenze per lei consigliere più votato in questo primo turno che effetto fa? beh lusinghiero perché chiaramente usciamo da 5 anni di opposizione l'altra volta già avevo fatto un bel risultato la sticella personale era alta era di 1037 adesso ho invertito le ultime due cifre quindi 1073 che mi fa capire che la città insomma ripone in me ancora molta fiducia sono rimasto negli anni un punto di riferimento nonostante non avessi ruoli di governo ed è insomma un privilegio ancora ricevere questo consenso alle urne in maniera molto spalmata perché poi in ogni seggio ho preso preferenze quindi rappresentare in maniera così trasversale la mia comunità mi fa molto piacere Alessandro Venanzi in comune a Udine Francesco Martínez a Palmanova nelle regionali due consiglieri del partito democratico all'opposizione in questo momento che sono risultati più votati in comune e in regione che considerazione si può fare a proposito ma forse sono due casi diversi però credo che la spiegazione forse più banale è l'umiltà di lavorare ogni giorno per la propria comunità parlando con le persone facendosi carico dei propri problemi e dei propri sogni ovviamente e quindi lavorare per il bene collettivo credo che la gente capisca la buona politica da quella meno buona capisca chi lo fa con passione da chi non lo fa credo che Fontanini su questo sia l'esempio della non passione I prossimi giorni saranno molto importanti qui in comune a Udine per le varie forze politiche di centro-sinistra e anche di centro-destra per stabilire accordi alleanze apparentamenti anche in vista del voto del 9 e del 10 aprile ricordiamo si sfideranno il sindaco uscente Fontanini che al primo turno ha ottenuto il 46,25% dei voti e il candidato del centro-sinistra Dettoni che si è fermato al 39,7% da capire cosa deciderà di fare il candidato Marchiol che ha ottenuto il 9,4% e anche quali indicazioni darà Salmè ai suoi elettori Salmè che ha ottenuto il 4,8% dei consensi entro giovedì molto probabilmente i giochi come dire saranno fatti in vista appunto del ballottaggio Francesco io direi di andare a sentire proprio le voci che abbiamo raccolto ieri tra i quattro candidati sindaco e poi la linea può tornare allo studio per proseguire il dibattito dovremmo ancora fare 15 giorni di campagna elettorale dovremmo girare la città incontrare i cittadini e dare a loro quella informazione e tutta quella forza che ci hanno controvistito questi 5 anni di lavoro per convincere a darci ancora la fiducia per questi 5 anni che ci aspettano beh è un gran risultato perché il centrodestra puntava a vincere il primo turno così non è stato dobbiamo rimotivare tutti i nostri elettori a tornare al secondo turno dobbiamo fare un appello a tutti quelli che non hanno votato e sono tanti perché anche loro concorrono a scegliere la guida della città e poi dovremmo cominciare un tavolo di convergenza con tutte le tematiche che le liste di Marchiola hanno portato avanti e che come loro sanno noi condividiamo in gran parte tranne qualche sfacettatura tutte le loro posizioni i cittadini udinesi hanno bocciato il governo di Fontanini che è dello stesso partito del nostro presidente della regione ed è 20 punti indietro quindi ecco un'indicazione chiara è stata data da parte dei cittadini udinesi per noi il baricentro è sempre stato che tipo di città vogliamo creare quindi il contenuto programmatico e come lo mettiamo a terra quindi un rinnovamento anche in chiave di competenze nelle persone che riescono a tradurre le parole in pratica e adesso invito i due candidati sindaco che sono andati al balottaggio ad aprire un confronto senza pregiudiziali né di tipo personale né di tipo ideologico appunto a parlare di programmi e di idee sul futuro della città questa è una lista civica pura equidistante terza rispetto ai due schieramenti del partito però vogliamo dare un contributo di idee di programma e anche di uomini e quindi apriamo il confronto con entrambi i candidati Allora Tommaso Salmè sul mercato questo lo possiamo dire nel senso buono ovviamente del concetto e del termine non chiude la porta a nessuno bisognerà vedere chi lo vuole tra i due che si contenderanno la poltrona di sindaco mentre è chiaro che Evano Marchiolo sceglierà la riserva ma è una riserva che è già sciolta fin dall'inizio appoggerà ovviamente non so ovviamente le tonie secondo me sì poi non lo so anche in base a quello che hanno detto il tema è se convenga cioè se convenga i due candidati cambiare la coalizione con cui sono andati al primo turno perché la sommatoria dei voti al ballottaggio non è automatica perché significa non credere di poter vincere da soli perché significa non fidarsi di chi tu chiami al voto è una pratica che funzionava molti anni fa quando votava molta più gente e le sommatorie erano quasi algebriche oggi la domanda che mi farei se fossi Fontanini se fossi Detoni è ma non è che mi conviene dire avete chiesto ho proposto me stesso questa coalizione questo programma chiedo agli udinesi di giudicarmi su questo perché se tu di fatto aggiungi altro significa che hai capito che non basti e allora se non basti perché devi vincere quindi è una riflessione che dovrebbero fare mentre l'altra cosa l'altro servizio è straordinario perché mi ricorda i due del PD che sono arrivati primi nelle preferenze mi ricorda la frase di Bersani sono arrivato primo ma non ho vinto che è un po' la maledizione della sinistra cioè grandi performance personali grandi dirigenti grandi sindaci grandi presidenti di regione ma poi quando c'è da mettere insieme le idee arrivano secondi con stacchi di 30-40 punti quindi magari diamo atto a Venanzi che ha preso una quantità di voti enorme che è una persona che per me poteva fare il candidato sindaco poi il PD non l'ha voluto come non ha voluto il candidato presidente della regione non ho mai compreso fino in fondo la ragione per cui il PD non poteva esprimere un candidato comunque sono scelte di coalizione ma visto che adesso vogliono allargarla la coalizione comunque questo è un tema relativo però ricordiamoci che queste performance personali non devono portare alla frase di Bersani cioè siamo arrivati primi abbiamo fatto tutti i record siamo i più bravi e poi vincono gli altri sarebbe un consiglio così visto che in politica non è vero che conta partecipare l'abbiamo messo nei titoli Tommaso il clima sul riscaldato con il ballotaggio che si terrà il 16 e il 17 aprile su due giorni dunque per consentire a chi andrà al mare evidentemente domenica 16 di poter votare il 17 battuti a parte però un'intervista del tuo giornale pubblicata questa mattina con Ettore Rosato ha creato un po' di monomori all'interno del centro-sinistra perché perché Rosato ha detto commentando ecco vediamo leggiamo anche il virgolettato parte del nostro elettorato ha votato Max il moderato Max sarebbe naturalmente Federica ricordiamo che Italia Viva con azione quindi calenda sostenevano alle regionali come terzo polo un altro candidato Alessandro Maran per quanto riguarda invece le comunali fanno parte della coalizione che sostiene Detoni di centro-sinistra queste dichiarazioni hanno infastidito il partito democratico che per bocca di Spitaleri andiamo a leggere alcune dichiarazioni dice ancora una volta Rosato cala sul territorio con interventi improbidi che sembrano quasi voler turbare il percorso elettorale del centro-sinistra al ballottaggio nella città di Udine mesi fa aveva tentato di accreditare al centro-destra la candidatura di Alberto Felice Letoni ora si spertica in lodi a Federica mentre anche il terzo polo è impegnato in città a superare lo stanco e annoiato in cedere di Fontanini allora Rosato da che parte sta? ma è la derivata della confusione che alberga a sinistra a sinistra ci sono tre forze politiche che derivano dallo stesso luogo cioè la sinistra di una volta i girotondi poi il vaffa di Grillo hanno creato i grillini dove poi si sommò un po' di destra rabbiosa ma non c'è più adesso sono tutti più o meno vengono tutti da là c'è il PD che era il partito di larga maggioranza doveva essere a vocazione maggioritaria che si è scomposto in Mirai Rivoli dove un ex segretario Renzi è indeciso sul ruolo di questo terzo polo che in Friuli Venezia Giulia però dobbiamo chiamare quarto polo perché è arrivato quarto quindi non è arrivato terzo e l'ex capogruppo Rosato che non fa altro che prendere atto di una cosa se Fedriga ha preso il 65% quello che ha preso e in questa regione il centro-sinistra ha vinto due volte significa che gente che aveva votato a centro-sinistra ha votato Fedriga perché altrimenti se noi stabiliamo che il centro-destra ha solo con i suoi voti il 66% beh allora è inutile che andiamo a fare le elezioni quindi Rosato dice una cosa naturale che il PD anziché infastidirsi cosa che fa troppo spesso secondo me dovrebbe risolvere cioè dovrebbe chiarire qual è il proprio percorso rispetto alla candidatura di Lettoni e se ritiene che il terzo polo che poi è il quarto polo sia ambiguo faccia meno di allearci e quindi vada a fare le elezioni con quelli che gli piace quello che dicono perché se Rosato dicesse quello che dice Spitaleri non ci sarebbe stata la frattura tra i riformisti del PD non sarebbe nata Italia Viva e Rosato sarebbe ancora capogruppo alla Camera come è stato per 5 anni del Partito Democratico erano compagni di partito si telefonino e si mettono ad accordo grazie grazie Tommaso per essere stato qui con noi adesso noi facciamo vedere un altro servizio lanciamo un altro servizio di Angela Caino che fa il punto su tutti gli altri sindaci eletti perché la partita poi si è giocata soprattutto per le regionali e per il comune più grande in cui si votava nella nostra regione cioè la città di Udine ma in altri 23 comuni i cittadini sono andati al voto per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale grazie ancora Tommaso Cerno grazie a voi ci vediamo sicuramente nei prossimi giorni il servizio di Angela Caino su tutti gli altri sindaci eletti nella nostra regione dopo 40 anni di amministrazione di centrosinistra fa edis volta pagina Luca Balloc sostenuto da una lista legata a Fedriga Presidente con il 58,71% dei voti batte l'assessore uscente Carla Fiorito e diventa il nuovo sindaco il comune delle valli del Torre è al momento l'unico dei 24 chiamati al voto in questa tornata elettorale a segnare un cambio di colore in quasi tutti gli altri è stata confermata l'amministrazione uscente in maggior parte di centrodestra è il caso di Sacile con la netta vittoria di Carlo Spagnola al primo turno 70% di consensi per il sindaco uscente di centrodestra Gemona conferma Roberto Revelant San Daniele Pietro Valent Talmassons Fabrizio Pitton Spilimbergo Enrico Sarcinelli Fogliano Re di Puglia Cristiana Pisano Fiume Veneto Jessica Canton e San Giorgio della Ricchinvelda Michele Leon conferme per l'amministrazione uscente anche a Tavagnacco dove è stato eletto Giovanni Cucci assessore della giunta Liruti eletto in regione con la lista Fedriga a Valvasone Arzen il nuovo sindaco e Fulio Avoledo assessore della giunta Maurmair ora consigliere regionale per Fratelli d'Italia per quanto riguarda il centro-sinistra tengono Fiumicello Villa Vicentina il nuovo sindaco e Alessandro Di Ust assessore uscente che raccoglie l'eredità di Laura Sgubin Martignacco che si riaffida alle mani dell'ex sindaco Mauro Delendi che raccoglie l'eredità di Gianluca Casali e Zoppola con Antonello Tius già nella giunta dell'uscente Francesca Papais Cambiamo adesso argomento e con Eleonora Nocent andiamo a fare il punto su un'operazione della Guardia di Finanza ancora una volta per truffe sui bonus edilizi 48 persone sono indagate dalla Procura di Monza con l'accusa di froda aggravata allo Stato autoriciclaggio e indebite compensazioni di crediti fittizi nell'ambito dei bonus edilizi a seguito di un'indagine della Guardia di Finanza gli indagati in particolare un commercialista e revisore legale dei conti calabrese di Monza uno di Treviso e uno di Napoli avrebbero costituito una rete di cessione fraudolenta dei crediti derivanti dai bonus che poi avrebbero monetizzato coinvolte 48 società con sede in varie regioni sequestrati beni per 90 milioni di euro tra cui appartamenti e ville e conti correnti anche esteri l'indagine del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Monza è partita da anomalie e alert di rischio emersi rispetto a un commercialista calabrese con casa in Brianza il quale avrebbe acquistato da decine di persone crediti per interventi edilizi bonus facciato 90% ed ecco bonus 65% per un valore di 13 milioni di euro facendo partite subito dopo cessioni a catena dei medesimi crediti per lo più lo stesso giorno poi monetizzati presso poste italiane il sistema fraudolento stanno alle immagini gestito da più persone attraverso la costituzione di 48 società con domicilio fiscale in 13 regioni italiane per poter creare e far circolare crediti di imposta inesistenti e ottenere ingente liquidità ha lavorato sulla cessione di crediti fiscali tra il 2020 e il 2021 nel raggiro 700 persone sono state trasformate in cedenti credito senza saperlo per l'esecuzione di interventi edilizi mai eseguiti tra cui molti non proprietari di alcuni immobili e percettori di reddito di cittadinanza tra i beni sequestrati tra ville tra Venezia e Massacarrara 38 milioni di euro di crediti in imposta e una Porsche qualche notizia di cronaca cominciamo con il tratto del fiume Ausa che è stato interessato a Cervignano del Friuli nella prima serata di ieri da un inquinamento di sostanze oleose verosimilmente idrocarburi risulto ora in sicurezza bonificato dopo la posa ieri di bende assorbenti panne assorbenti per circa 6 metri hanno operato a supporto attivati dalla SOR la sala operativa regionale della protezione civile su richiesta dei vigili del fuoco e i volontari della squadra comunale di protezione civile del comune di Cervignano del Friuli e poi una persona è stata soccorsa dai sanitari nel primissimo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Staranzano per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine due vetture sono scontrate una persona è rimasta ferita gli infermieri della SORES hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza alla Cervignano del Friuli e un'automedica proveniente da Gradisca di Sonzo il personale medico infermieristico ha preso in carico il ferito che è stato trasportato con ferite non gravi all'ospedale San Polo di Monfalcone ed ancora un ragazzo di 25 anni è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente avvenuto in strada per Basovizza all'altezza dell'incrocio con via Fabiani per causa in corso di accertamento si sono scontrate una moto ed un furgone dell'impatto il Centauro è stato sbalzato dal mezzo il giovane è stato preso in carico dai soccorritori e ricoverato all'ospedale di Cattinara in codice giallo adesso ci fermiamo un attimo pubblicità e poi apriremo l'ampia parentesi dedicata a Vinitali e a tutte le aziende della nostra regione che stanno partecipando alla rassegna del vino e adesso parliamo di vino Vinitali in corso a Verona dalla ribolla del Friuli Venezia Giulia al Ciro della Calabria dal Grillo di Sicilia al Nebbiolo del Piemonte sono i vini autottoni ad aumentare di più le vendite nel 2022 e al primo posto c'è la ribolla gialla del Friuli Venezia Giulia la notizia di oggi è che c'è un Friuli Venezia Giulia in testa di una classifica particolare quella della crescita esponenziale dei vini e lo fa con la ribolla gialla sì assolutamente sì noi abbiamo qui messo in esposizione i vini che nel 2022 sono cresciuti in termini di preferenze da parte dei consumatori quindi i vini più acquistati sugli scaffali da parte dei consumatori al primo posto c'è appunto la ribolla gialla che cresce di oltre il 12% e quello che noi abbiamo rappresentato è come i prodotti che crescono di più i vini che crescono di più in termini di appigli da parte del consumatore sono vini fortemente legati ai territori di produzione quindi vitigni autottoni denominazioni fortemente rappresentative dei rispettivi territori infatti come è possibile vedere al terzo posto c'è il vermentino che è uno dei vini simboli della Sardegna per poi passare alla vernaccia per quanto riguarda la Toscana il grillo per quanto riguarda la Sicilia piuttosto che il negro amaro per quanto riguarda la Puglia quindi per dire che cosa il consumatore italiano si riconosce nei vini identitari del proprio territorio e acquista questi e apprezza sempre di più questi prodotti che sono quelli che crescono di più in termini di volumi di vendita e dunque quella ribolla gialla del Friuli Venezia Giulia piace sempre di più agli italiani più 12% di consumi di questo vino della nostra regione ma adesso la parola passa a Davide Zaninato che ci racconta da Verona la nostra giornata a Vinitali una lunga giornata qui a Vinitali per raccontare le eccellenze del Friuli Venezia Giulia in mostra nella principale fiera nazionale dedicata al mondo della vitivinicoltura una realtà quella della nostra regione che ha presentato le sue eccellenze con oltre un centinaio di aziende presenti 400 etichette tanti rappresentanti di una realtà che continua e lo mostrano i numeri che ha raccolto Confagricoltura continua dicevamo a far fruttare il valore aggiunto di un territorio quantificato in 22.920 ettari 1.600.000 ettolitri prodotti che valgono il 3,6% della produzione nazionale una Friuli che attraverso le sue DOC le sue DOCG continua a confermarsi anche traino nell'export del paese Italia un paese Italia che può contare dunque su realtà che vogliono crescere vogliono innovarsi e che continuano anche a rappresentare tante tante peculiarità diverse la riscoperta dei vini autotoni ma anche un lavoro che si diversifica non solo il mondo del vino ma quello della grappa quello dei distillati e noi in questa giornata siamo andati a raccontarli attraverso le voci dei diretti interessati presenti e molto soddisfatti per come è andata questa 55esima edizione di Vinitaly li abbiamo raccolti in questo mix andiamo dunque ad ascoltarli un connubio quello dello sport e del buon vino che è vincente io penso proprio di sì anche perché abbiamo unito due bei nomi diciamo l'eccellenza del Prosecco nel territorio trebigiano Veneto e anche il nostro club che devo dire è un'eccellenza anche nazionale stiamo nella nella zona Friuli nel paviglione secondo me più figo dell'Italia siamo qui da tantissimi anni con i amici nostri con i paesani a vendere i grandi vini bianchi di Friuli Venezia Giulia il nostro Re Fosco l'Ostinato ha vinto la medaglia d'oro nella categoria vini rossi tranquilli ante 2020 quindi possiamo dire che è tra le etichette più belle al mondo dei vini rossi siamo qui ormai noi per il 35esimo anno di fila e quest'anno festeggiamo l'ottantesimo dell'azienda quindi un grande evento che ha portato tantissimi amici collaboratori e clienti a venire a salutarci questo ci fa molto piacere un grande Vinitaly i grandi vini del nostro territorio che ulteriormente dimostrano davvero di essere un punto di riferimento nella qualità internazionale la soddisfazione che sto vedendo davvero grande interesse per i vini appunto nostri non soltanto ma di tutto il padiglione Giulia Nero Magis ha la caratteristica di abbinare il vino al design ma come? sotto diversi punti di vista innanzitutto lo possiamo vedere dal vestito di queste bellissime bottiglie con delle etichette molto particolari che raccontano un po' la storia di questo progetto Gloria e Martina sono i volti di Borgo Veritas da Maron di Brugnera a Vinitaly qui sta andando benissimo noi siamo una piccola azienda nata nel 2016 situata in provincia di Pordenone a Maron di Brugnera produciamo dei vini spumatizzati dei vini bianchi fermi e dei rossi allora quest'anno come novità abbiamo portato delle riserve quindi abbiamo un frilano una ribolla gialla riserva 19 quindi andate un po' indietro che verranno sono state presentate al Vinitaly inizieranno a uscire sul mercato tra un mesetto circa abbiamo avuto il privilegio di veder guidare la masterclass dedicata alla grappa nonino nei cocktail da Monica Berg la più influente e più importante bartender del mondo e questa era la nostra Vinitaly la nostra giornata a Vinitaly avremo nei prossimi giorni altri servizi ulteriori approfondimenti sulla rassegna del vino che ha visto protagoniste le cantine le aziende e che vede ancora protagoniste le cantine e le aziende della nostra regione del nostro territorio presentata ad Udine questa mattina nella serie della Camera di Commercio la 23esima edizione la 23esima edizione di Asparagus manifestazione organizzata dal Ducato dei vini friulani per valorizzare e promuovere l'asparago friulano tra il 14 aprile e il 2 giugno saranno proposte 9 cene in altrettanti ristoranti del territorio quest'anno ci sono 9 ristoranti che partecipano a questo circuito come noi lo chiamiamo di Asparagus a partire dal 14 di aprile quindi venerdì prossimo per ogni venerdì successivo e terminare il 2 di giugno quali saranno i piatti proposti? allora nelle riunioni che abbiamo fatto con i ristoratori per definire un po' tutte le caratteristiche di quest'anno abbiamo stabilito un piatto che deve essere uguale per tutti che è l'asparago e uova quindi asparagi e uova che è un classico degli asparagi dopodiché per gli altri piatti abbiamo lasciato la libertà ai vari scev di declinarli un po' alla loro fantasia protagoniste ovviamente i grandi bianchi friulani assolutamente sì anche se qualcuno ha azzardato che magari lo so un vino rosso poteva accompagnarsi staremo a vedere complimenti al Ducato dei vini friulani perché ha sempre promosso sta promuovendo e promuoverà in futuro uno dei tanti prodotti del nostro territorio in questo caso l'asparago in questi giorni leggiamo sui giornali che ci vogliono propinare la carne sintetica le farine fatte con insetti e quant'altro io direi diamoci una il vino il vino con delle etichette in cui si evidenzierà che il vino fa malissimo diamoci una calmata valorizziamo la cultura i prodotti del territorio di tutto il nostro grande paese nelle sue diversità regionali e l'asparago è una di queste territorio che si sta facendo riscoprire anche Certo sono i due grandi mondi del nostro paese quello della gastronomia e del settore vitivinicolo che raccolgono moltissime piccole medie grandi aziende con le loro diversità e questo lo dobbiamo valorizzare diamo un aggiornamento della situazione in autostrada dove a causa di un incidente è stato chiuso il tratto tra il nodo di Portoguaro San Stino in direzione Venezia incidente tra due mezzi pesanti abbiamo qualche dettaglio in più nel sinistro uno dei mezzi ha perso il carico da pittura per interni lo sversamento del materiale ha richiesto l'intervento di una ditta specializzata per la bonifica della sede stradale per consentire l'operazione è stato dunque chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A28 A4 in missione verso Venezia vedete la situazione è questa la lunga striscia rossa testimonia la difficoltà di smaltire il traffico e di dunque ripristinare il traffico normale appunto sulla A4 adesso parliamo invece di iniziative che riguardano il Pordenonese iniziative di cultura in questo caso cultura ed economia ripensare il capitalismo dal 6 aprile il via al nuovo cartellone di cultura economica dell'IRSE il servizio di Emilia Angelucci inizia giovedì 6 aprile presso l'auditorium Zanussi della casa dello studente di Pordenone la 39esima edizione del ciclo di cultura economica ideato e promosso da IRSE istituto regionale di studi europei a cura dello storico Giulio Mellinato docente di storia economica e history of globalization all'università Bicocca di Milano il ciclo prevede un programma con tre focus settimanali giovedì 6 13 e 20 aprile sempre alle 15 e 30 sul tema ripensare il capitalismo per individuare prospettive concrete di crescita inclusiva attraverso nuove politiche di economia sostenibile può l'economia prescindere da politica società e cultura? no se pensiamo allo sviluppo economico come un concetto multidimensionale spiega il curatore Giulio Mellinato che non è quindi misurabile solo in termini di denaro ma soprattutto di coesione sociale parità di diritti salvaguardia ambientale ecco dunque la riflessione sullo stato di salute del capitalismo e su quali siano le sue articolazioni nella società per comprenderni i pregi e soprattutto evidenziarne gli aspetti critici per immaginare una possibile risoluzione a problemi contemporanei che il vecchio capitalismo ha generato ogni conversazione sarà suggellata da uno spazio speciale time to change di volta in volta in collegamento con giovani impegnati nel volontariato e come consuetudine ampio spazio al dibattito si parte il giovedì 6 aprile con un dialogo fra il curatore l'economista e accademico Massimo Baldini su capitalismo creazione di ricchezze e disuguaglianze welfare state e distribuzione del reddito si prosegue il 13 aprile con un focus sulla cruda realtà fatta di gender gap inverno demografico e in sostenibilità dei costi del nostro sistema di welfare in dialogo l'ordinario di diritto del lavoro Valeria Fili infine il 20 aprile la conversazione con Marco Moro direttore editoriale di edizioni ambiente sul tema capitalismo quale transizione verso la sostenibilità ecologica siamo giunti al termine del nostro notiziario i programmi principali di questa sera alle ore 20 e 30 quindi tra poco lo speciale dedicato al campionato primavera 1 con tutte le sintesi della giornata del campionato dei giovani tra cui anche la partita tra Milano e Udinese e poi il secondo episodio alle 21 e 15 della serie tv dedicata ai film e telefilm ispirati tratti dai romanzi e dai racconti della regina del mistero la scrittrice Mary Higgins Clark e poi chiuderemo ancora con il telegiornale alle 22 e 45 vi ringrazio per essere stati con noi vi lascio al meteo le previsioni per la giornata di domani a cura di Trebi Meteo arrivederci con sole protagonista sul Friuli Venezia Giulia qualche nuvola in più in transito in serata ma senza conseguenze nel dettaglio rapporto non e Udine ampi spazi di cielo sereno con velature solo in transito e temperature in calo sia nei valori minimi che nei valori massimi con valori minimi che si aggireranno intorno allo zero sole protagonista anche su Gorizia e Trieste con temperature in ulteriore lieve calo di qualche grado nei valori massimi con valori infatti che difficilmente andranno oltre gli 11-12 gradi ma per tutti i dettagli vi rimando come sempre all'app gratuita di Trebi Meteo